La cipolla si comincia a settembre, si fanno i brassicali, si meno semmi, si commogliano, poi si arricchiano, poi vengono cresciute e poi verso gennaio, febbraio si mettono il piantino. Poi amano poco con ritardo perché è giusto sempre, ma è cresciuto solo e si pianta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.